Però ancora non è più chiaro se è troppo generale. In guardature sono rasoiate, sicuramente non sono sensato. È molto preciso, è molto... Quindi il mio amico è un sangue nuovo. Perché fai il testo di un genio? La vita oltre il muro. La giornata di sole. Se non basta levare il muro e tornare. Un pezzo dopo l'altro. Inizio, l'arco, take two. Hai tirato su un figlio che è cresciuto forte. È di tornare al cielo. Ritorna degno. Primo piano, Sandro, take uno. Libri, quadri, spettacoli. Però sì. Si prova a ricostruire. Pronti, signore? La moto della Repubblica non finisce. E me ne accorgo molto bene. Perfetto. Perfetto. Perfetto.